Inaugurazione di Voria Creation Couture. La stilista pestana Stefania Voria inaugura questa sera il suo atelier. Bellissime modelle per altrettanti bellissimi vestiti. Complimenti davvero per l'idea. Come nasce? Nasce dal fatto che adesso voglio scrivere un capitolo nuovo della mia vita partendo proprio dal mio paese natio. Quindi Pestum, una collezione ispirata a Pestum, un progetto intrapreso anche con il critico d'arte nonché mia carissima amica Antonella Nigro che grazie ai suoi contatti artistici si sono prestati questi artisti a decorare i miei abiti. Vorrei fare i loro nomi perché è giusto che anche loro siano dei protagonisti di questa serata. Ida Mainenti, Rosso Carpentieri, Pasquale Ciao, Maria Rosaria Verrone e Ariano. Poi ci sta una bambina che è voluta anche lei essere qui presente e ha voluto partecipare. Questo è un mio abito dipinto da lei. Ha fatto il Tempio di Cerere. Come ti chiami? Artina. Quindi questo abito l'hai disegnato tu? Sì. E com'è che ti è venuta l'ispirazione per disegnare il Tempio di Cerere? E' così. Così? Non sapevi cosa disegnare? Beh, la spontaneità dei bambini è sempre meravigliosa. Come nasce questa collaborazione con Stefania? Nasce perché Stefania è un artista, una stilista e quindi io le ho chiesto di curarmi diciamo un abito proprio quando c'è stata la Biennale di Roma l'anno scorso e quindi lei mi ha vestito con grande successo. Bellissima idea quella di rappresentare il nostro territorio tramite gli occhi di sei artisti perché a tutti gli effetti si sono degli artisti che si sono prestati al design del fashion, no? Sì, gli artisti hanno subito aderito al progetto di Stefania e ognuno in base al proprio talento, alla propria creatività si sono ispirati in base anche al titolo che Stefania ha dato. La collezione è tutta dedicata a Pestum, però ogni abito ha una specificità, ha una caratteristica che lo contraddistingue. E quindi Stefania è stata bravissima diciamo a scegliere dei temi che poi hanno abbracciato, hanno sposato sicuramente gli artisti con grande capacità. Il bellissimo progetto di Stefania Voria nasce da un'iniziativa altrettanto bella, infatti da non molto tempo qui al sud esiste un progetto che proprio spinge le persone del nostro territorio a rimanere al sud. Non a caso il nome è Resto al Sud, siamo in compagnia dei due Deus Ex Machina, coloro che hanno reso tutto questo possibile. Fabrizio Palescandolo, Adua De Riccardi. Spieghiamo un po' meglio come si sviluppa questo progetto. Il progetto parte innanzitutto dalla voglia di restare nei propri territori dove si è nati e non c'è voglia di andare via. Stefania anche in questa collezione ci sta dicendo quanto ama la sua terra. Quando venne al nostro studio a chiederci di fare questa progettazione, il suo entusiasmo, il suo talento è stato assolutamente coinvolgente. Lo si può vedere in questa splendida mini collezione quanto c'è di Pestum e quanto c'è di Stefania. Noi siamo qui a Capaccio Scalo e abbiamo uno studietto, collaboriamo insieme. Stefania ci ha travolto col suo entusiasmo. Dove siete ubicati? In Via Magna Grecia. È uno studio associato di dottori commercialisti. Ci trova Fabrizio Palescandolo, Adua De Riccardi, quindi i nostri nomi. Squadra che vince non si cambia, vero Stefania? Verissimo. Perché siamo in compagnia del grandissimo Emanuele Sicignano. Sveliamo questa piccola chiccola, un piccolo gossip. Tu sei produttore di una trasmissione che ormai va avanti da cinque anni che si chiama Reality and Fashion Show for Designers. E quest'anno Stefania si è piazzata a seconda nel tuo reality ed è una grandissima soddisfazione per te vedere come una ragazza che esce fuori dalla tua scuderia poi abbia realizzato una cosa del genere. Sì, ne sono veramente entusiasta. Stefania ha fatto un grande reality, possiamo dire, quest'anno per un punto è arrivata a seconda. Però come avesse vinto, diciamo, perché è stata una gara fino all'ultima puntata e ne sono veramente contento. Ha allestito un ateliere veramente pazzesco, stupendo. Io l'altra volta sono venuto a trovarla e non era ancora completo. Adesso vedendolo completo ha fatto veramente una cosa strepitosa. Le faccio il mio più grande è un brocco al lupo perché è una grande professionista, è una bravissima ragazza e soprattutto è una grande lavoratrice. Quando nasce un artista è bello esserci accanto, insomma. Io sono per i giovani e do molta forza, quindi viva i giovani. Senti, Daria, tu anche vivi d'arte, no? Sì, sono una cantautrice ma vorrei parlare invece di Stefania, di Stefania Voria, delle sue splendide creazioni e del fatto che io abbia avuto la possibilità, proprio l'anno scorso di questi tempi, di indossare anche qualche suo capo in occasione della presentazione di un mio singolo che tra l'altro ha riscosso anche molto successo che è Canzone Appassionata. E quindi io sono... Girato nel silenzio, sì, girato nel silenzio. Quindi siamo sempre nel mood scilentano. Dobbiamo valorizzare le eccellenze del cilento e dobbiamo stare vicino a questi giovani che si danno da fare. Stefania è un vero talento, lo si vede dalle creazioni che fa. Invito quindi tutti a venire a visitare questo atelier che si trova in Capaccio Scalo, tra l'altro in una strada che è centralissima, per cui fatevi un giro e noterete la bravura di quest'artista che ce la mette davvero tutta. Quindi viva i talenti campani.